Pronti, pronti con la nuova parte Dove cosa faremo? Faremo l'ultimo requisito per arrivare ad avere 4 cuori con tutte le ragazze E poi saremo pronti praticamente di fronte al punto Dalla quale potremo fare tutti i finali Tutti i finali, tranne il 10 che abbiamo già fatto Il dreaded number 10 E' facilissimo da ottenere, sfortunatamente Ma abbiamo gli altri nomi da divertirci a fare Siamo così vicini e sono così gasato di questa cosa Quindi facciamo questo bond e prepariamoci al bello Oh Elise, guarda quanto ho trovato Una roccia Ma non sembra Flock Guarda, ha anche la coda, guarda Una piccola coda, ha detto E anche questa, non sembra un pollo Ecco il becco, vedi? E' così che è messo insieme col braccialetto Ah, si, giusto Chissà perché sei così attirata da questa spazzatura inutile Smetti di essere spazzatura nel momento Chiediamo il significato, Elise Quel braccialetto vuol dire molto per entrambi, no? Oh, quasi i denti Senti Rosmarine Che vuol dire che non riesco a trovare un significato sotto ciò? Cosa intende, Elise? E' così cara a tutti Eppure sono trattata come una pezzente Lavoro fino a essere esausta Devo anche sopportare il loro caratteraccio Ha molto più senso quando Nonna Hall era qua Con me Penso che la morte delle nostre nonne Ha avuto un effetto simile Per entrambe Non siamo per nulla uguali Rosmarine Tutto quello che avevo voluto dire La morte di Nonna Hall E' stata isolazione Isolamento per me Ma anche quello è l'Ise Mi sono sentita anch'io sola Ma capisci? E' stato in quel momento che ho iniziato a seguire il mio percorso E direi Di Esti che lo stesso si applica a me, eh? Non sia Non Mi sbaglio? Però non in chi è Femberg Rosmarine Non c'è nulla per me qua Sono molto di più di quello che questa città A vedere in me Oh guarda lì C'è qualcosa qui Eh? È oro Non credo che il significato è qualcosa che tu trovi Penso che sia qualcosa che tu crei Oh Prendi questa gemma che abbiamo trovato Questa pepita che abbiamo trovato Per esempio Posso? Qualcosa così prezioso In un posto così scontato Pronto Pronto ad essere vista Mi ricordo di te Elis Rosmarine Non ti sto chiedendo di cambiare idea riguardo a chi è Femberg Ma Inseguire quello che veramente vuoi E quello che veramente ti importa Ecco qual è il significato di essere trovato Il significato, eh? Non è lo stesso per tutti Solamente concentrati su quello che ti importa di più Elis Ecco quello C'è qualcosa che vorrei dirti E direi C'è qualcosa che tu voglia dirmi Anche tu Suppongo Ci potrebbe essere ma Dai torniamo in città Prima che Diventi ancora più rossa Rosmarine Muoviti Elis Mannagia te Ottimo ragazzi Quattro cuori Con tutte quante le ragazze Siamo praticamente Al punto Di arrivo O di partenza Per quanto riguarda I finali E quindi Ci becchiamo alla prossima parte Bye 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 bye